Eccomi ragazzi su Castlevania Lords of Shadow. Oggi vediamo l'ultimo livello del capitolo 10, ci stiamo avvicinando sempre più alla fine. Forno cremato. Che cosa troveremo al centro di quella lambda infuocata che abbiamo visto all'albero? Qui c'è il Becchio, uno che brucia i corpi nel forno. Gabriel deve affrontare il Becchio. Si pone queste domande, perché? Ecco. Hai una faccia un po' panica. Oh. È lui. Ehi. Che? Ha una maschera strana. Rampicampi. No, che sono quelli? Oh no, quelli sono i bastardi che vanno nelle pompe. I figli bastardi. Allora ragazzi, cominciamo col sistemare questi bastardi che non sanno fare altro che rompere le palle. Ma chi se l'ha inventato? Uno zombie dentro la bar che sa fare queste cose. Che mente diavordica che hanno quelli della Conair. Prenditi questo super boom. È questa. Sì. Vai. È arrivato il momento di Gucci. Spagna, 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 spagna. Vai, vai. Vai. È il sistema. No, 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 no. Non deve entrare, mamma. Non deve entrare, mamma. Ara. No, no, no. Il prostituto. No, no. No. È entrato nell'affare il bastardo. Il barato. La croce. Li ucciderà subito. E' la fan. Vai. No. E' quella calocca di fuori. Cavolo. Bastardo. Bastardo. No. Torno. Oh, eccolo. Eccolo. Vai, vai, vai. Sì. Dove credi? Aspetta. Disgraziato. Come permetto di mettermi. Sì, vai. Sbagliato, sbagliato. No, no, no. No. Ho sbagliato il tasto. Ho sbagliato il tasto. Prendi questo! Oh, e dai! No. Perché non capo? Aha Dai Non sbagliamo No, tu non fai da questo Si, si è aperto il cancellone È arrivato il momento di farti il culone Carichiamoci come un super saiyan E uccidiamo il vecchio Guardate il forno, è aperto Il forno è aperto Ragazzi aspettatevi di tutto in questo video Curiamoci con l'acqua sangue Oh Che faccia triste Si è chiuso il forno Eh Da dove sbucca il vecchio? Oh ma Guardatelo Quante brutte Alle catene che gli escono da Dalle città Sembra un mostro Mi aspetti bastardo eh Ah Vedi un po' Qual era il tipo di ruolo Cagli Che schifo Che cavolo Non è uscito da un po' 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 Ah ho capito Tu sei uno di quelli Che fanno delle quelle strane quell'adori Prenditi questo super colpo Del mio super amico Ok ok Ora ti prendi il corpo Della croce No No Hai avvocato Quei bastanti Vi è qui Sistema Anche tu Sotto te Tu No Tu Non mi ferirai In parte Del mio mare Ma Vabbè un po' Che cosa fa Tira da sottoterra I morti Che lo stessi Ha seppellito Tutto quel lavoro Sprecato Sei un po' Gli occhi Parca Eh Parca Ancora Eh Eh dai Dai Oh Oh è arrivato il momento Di aprire Questo Bel po' Non mi dite che ti uccidevo Tutta le rete Mi dite che ti uccidevo Tutta le rete Ah Che fa Ah Alta 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 Spazio 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 Non 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 No Sì Cade È finito nel Forno Uh La lana sta sotto Allora Che me ne faccio Di quello Che? Che succede? No 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 Che briar Oh che briar Oh che briar Oh Che briar No Liberati 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 Ah Quel bastardo Ti voleva inghiottire Oh Mamma mia Devi risalire Suna sopra È tanto È tanto Da risalire Dai Andiamo 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 Vai 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 Gabriel Vai Sta risalendo la lava Non vedi che risale Sei cieco Oh Oh Vai Veloce Vai Vai Che per maledizione Cazzo Che per veloce Come devi fare? Uh Vai 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 Non hai tempo da perdere Vai Vai ancora Sali Dai Salta Vai sopra Non fare puttana Vai 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 Dov'è Dov'è? No No è dritto Sopra 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 Siamo santi Siamo santi Siamo santi Salta Sopra 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 Dai Gabriel Dai Gabriel Eh Sopra Una torre Dossa È questo Che si nasconda Di là Di quelle lande Infocare Forno crematore Livello completato La prossima volta vedremo Dove Andrà il nostro Ero Ragazzi Ciao!